Che cosa possiamo fare con la farina gialla? Abbiamo il nostro sacchettino, mettiamo come Raffa un po' di farina nella ciotola. Proviamo a fare un sole, allora prendiamo una colla stick, un cartoncino nero e giriamo, giriamo e mettiamo la colla tutta sopra il foglio. Siamo a fare un taglio, prendiamo un po' di farina e la buttiamo sopra. Oh, e poi mettiamo il mianfone e la buttiamo bene, bene, bene. Siamo a fare un po' di farina. Siamo a fare un po' di farina. Oh, e adesso mettiamo anche la farina sui raggi. E adesso mettiamo anche la farina sui raggi. Guarda un po'. Pizziamo un po'. Chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica. Leviamo la farina in eccesso. Ed ecco il nostro sole. Il nostro sole. Il nostro sole. Aspettiamo i vostri soli o anche le vostre lune volendo. Guarda un po'. Guarda un po'. Guarda un po' di farina. 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 Grazie per la visione!